ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video vi voglio parlare del mio intervento alla cistifelia dopo un anno che è passato praticamente da quando ho tirato via la cistifelia e ho fatto questo intervento allora di preciso ho già detto nell'altro video come è andata e diciamo cosa è successo in questo video vorrei parlare dopo un anno di come di come so di cosa sento eccetera e aiutare anche le persone che devono fare questo intervento tantomeno potrebbe essere utile questo video non lo so comunque se volete vedere i video le foto o l'ho messa anche su instagram ho messo qualche real qualche foto sul mio instagram per cui lascerò anche poi il mio instagram sia sotto che sopra il va lascerò il instagram così potete seguirmi dove vi ho lasciato già le nel mio profilo le foto dell'intervento quando l'ho fatto quando sono stata male c'è proprio tutto sul mio instagram sul profilo e anche qualche video mezzo real qualche video anche su tiktok dove ho fatto qualche ripresa e vi ho fatto vedere appunto il mio intervento allora dopo un anno come mi sento allora di sicuro mi sento molto meglio dopo che ho fatto questo intervento dopo che non ho più questi dolori che avevo prima all'inizio all'improvviso sinceramente me lo dico c'è lo dico proprio io ho sentito dolore quando ho fatto il secondo vaccino quando ho fatto secondo vaccino del punto non posso dire il nome perché credo che hanno segnalato anche questo nome qua su youtube dopo aver fatto il secondo vaccino dopo due settimane io sono rimasto cioè stavo malissimo avevo dei dolori forti nella pancia all'inizio pensavo che erano dolori normali dolori come intestinali che ogni tanto per il nervosismo mi succedono e allora ogni tanto prendo la pastiglia per il per la pancia così no però ho visto che il primo giorno stavo un po male il secondo giorno è peggiorato perché io pensavo che al primo giorno fino alla sera miglioravano per cui ho detto vabbè sarà una cosa che passa no bella tranquilla però sentivo che c'era qualcosa che non andava che mi faceva male no e allora i miei dicevano vabbè credo che ti passano stai tranquilla ti passo il giorno dopo la mattina che era una domenica prima è successo sabato e poi la domenica la domenica ha peggiorato di più ho avuto un dolore più forte non riuscivo a dormire e ho dovuto dire ai miei perché ero ancora con i miei che non riuscivo a sopportare questo dolore era troppo forte non riuscivo a camminare per cui devo andare per forza all'ospedale a pronto soccorso perché non ce la faccio più ho preso e sono andata a pronto soccorso con mia amma il mio ragazzo mi sembra che poi è venuto ma poi dopo non mi ricordo se poi doveva andare a lavorare il giorno dopo per cui non ha potuto diciamo a parte che quei giorni lì credo che solo una persona poteva entrare e accompagnare l'altra per cui tre persone non potevano entrare sono pronto soccorso mi hanno detto di fare le visite ho fatto degli accertamenti delle visite no visite tutto a posto tutto ok e mi fa facciamo l'ecografia vediamo se in pancia c'è qualcosa dato che sul corpo non vedo niente le analisi sono tutte ok proviamo a fare l'ecografia aspetto tutta la giornata con un dolore che non riuscivo a sopportare aspetto entro poi dopo alla sera verso tardi erano le 8 sono entrata a fare questa ecografia che non ce la faccio più prova guarda e vede tipo due palline adesso mi ricordo due palline un sabbiettino mi ricordo e il dottore mi fa qua è una cosa un po' bruttina io lo guardo mi spavento e ho detto lì sono proprio e lui mi fa però non preoccuparti si risolverà tutto perché devi solo fare un intervento chirurgico io l'ho guardato già stavo male di mio se poi mi ha detto anche questa cosa sta ancora peggio e ho detto ma che cos'è e lui poi mi ha avvisato che era una cistifeglia una sabbietta di cistifeglia che era per forza da operare da fare questo intervento perché sennò poteva peggiorare allora io ho detto ah bene ero proprio benissimo peggio di così non può andare prima volta che mi è successo in tutta la mia vita ma va bene l'intervento me l'hanno praticamente fatto adesso non mi ricordo se subito no prima dovevo fare gli accertamenti com'è che si chiamano quelle altre visite ma prelievi no pre ricovero scusate dovevo fare il pre ricovero prima e poi il ricovero mi sembra che me l'hanno dato dopo una settimana o due o forse ho dovuto aspettare non mi ricordo perché va stato un anno per cui comunque l'avevo già detto nell'altro video comunque questa è pezzettino di storia che quando ho scoperto di averlo e dopo che ho fatto l'intervento che ho passato l'intervento calcolate dopo un mese che sono poi riuscita a camminare sono riuscita a mangiare eccetera poi mi sono ripresa e diciamo che è andato tutto tranquillo calcolate che adesso fate un po' di fatica a mangiare cioè in senso le cose che mangiavate prima ad esempio il fritto o quelle cose lì non è che avete tanta voglia poi di mangiarlo come prima o tantomeno non cioè lo mangiate ma poco almeno poi dipende dal corpo da una persona da tutto per cui non tutte le persone sono uguali io ad esempio molte cose le sto evitando non le sto più mangiando poi i primi mesi no quest'anno è successo sì quest'anno ho avuto dei dolori all'ombelico dove mi hanno appunto fatto i punti mi hanno avevo ho avuto questi questi dolori quest'anno ho avuto questi dolori qua l'ombelico mi tirava mi faceva male l'ombelico mi tirava forse per quello che stavo mangiando mangiando cose che non secondo me non dovevo mangiare anche il fritto ho iniziato subito poi in teoria a mangiare anche il fritto che dovevo aspettare almeno un annetto invece poi sono subito andata bella vai sì sì e poi il nervosismo lo sforzo tra il lavoro giustamente mi è iniziato a fare il male allora mi avevano detto di non fare sforzi e mi avevano detto anche di che il mio corpo non era più come prima nel senso che adesso gli sforzi devi fare poco cioè fare meno sforzi non come facevi prima per cui quando poi ho iniziato a lavorare facevo sforzi eccetera appunto il mio la cicatrice dell'ombelico ha iniziato a farmi male poi ho usato una crema apposta che piano piano mi ha iniziato a passare e poi ho provato a cambiare il lavoro e meno male che ho cambiato il lavoro così almeno non mi faceva male appunto i punti per cui il cambiamento del corpo è cambiato in più almeno su di me sto evitando di non mangiare tanto fritto mangiarle proprio una volta al mese ma poco poco perché fa male e puoi mangiare tutto quello che vuoi però secondo me dopo l'intervallo è cambiato tutto per cui però diciamo che è migliorato cioè dall'inferno dall'incubo che ho avuto i primi mesi che sono stati quei due mesi lì di inferno è stata una cosa bestiale in più in più che ci pensavo allora io ho fatto un anno in agosto per cui calcolate che vabbè dovevo farlo prima questo video però poi con il tempo non ho avuto tempo e allora al fine non sono riuscita a pubblicarlo a pubblicarlo e a registrarlo per cui calcolate che in agosto ho fatto un anno e quando ho fatto il primo anno che mi è proprio parso le foto che ho messo anche su facebook dell'intervento ci sono rimasti sono venuti i brividi che quel giorno lì appunto dopo l'intervento che sono anche andata a casa i primi giorni non riuscivo a camminare non riuscivo a fare niente ho dovuto farmi ad aiutare dai miei dal mio padre da mia mamma dal mio ragazzo non riuscivo a fare niente ero praticamente quasi bloccata riuscivi a camminare ma ti facevano male i punti per cui era una situazione un po' brutta però dopo che hai fatto l'intervento dopo che te l'hanno rimosso lì diciamo che è stato una cosa un sollievo come per dire meno male questo incubo è passato allora ovviamente dovete sopportare questi due mesi più o meno i primi due mesi è un po' brutto però poi quando poi dipende appunto dal fisico dal corpo dalla persona io ho sopportato due mesi un po' di inferno un po' di stavo male poi dopo basta è passato tutto hai dimenticato tutto poi quando ovviamente compie un anno l'intervento che hai fatto dopo lì ci pensi dici cavolo è passato un anno da quando ho fatto un intervento da tutte queste cose qua assurde che sembrava un film horror più o meno un film thriller però diciamo che dopo che appunto l'hai tirato via basta secondo me stai meglio adesso io a parte quest'anno e un po' di dolori nell'ombillico poi basta è passato tutto perché ho cambiato lavoro adesso non sto facendo più sforzi come prima sto mangiando giusto ho perso un bel po' di chili quando quando dovevo mettermi a dieta per fare l'intervento e anche dopo perché quando ovviamente hai finito di fare l'intervento che ti hanno operato non è che puoi mangiare tutto quello che vuoi per cui calcolate che ci vuole un po' però ne vale la pena perché poi dopo dite wow ho perso peso sono dimagrita io non so quanto ho perso però credo che più di 5 chili l'ho persi e sono stata diciamo soddisfatta adesso vorrei ritornare a mangiare quello che la dieta che mi mi aveva dato il medico e volevo ritornare allo stesso stesso mangiare tutto quello che mi ha dato che secondo me è ottimo ti fa bene alla salute e tantomeno dici ho perso qualche chilo per cui sei molto felice quando vedi questo questo risultato questo è più o meno quello che è successo dopo un anno e come mi sono sentita diciamo che se non era per l'operazione l'intervento secondo me stavo ancora male per cui per fortuna sono stata fortunata che dopo un tot mi hanno subito operata ho fatto questo intervento io vorrei dire alle persone che devono ancora fare l'intervento è meglio farlo uno per la vostra salute e due per il dolore perché il dolore non lo auguro nessuno quello era stato un dolore assurdo che proprio guarda per cui dopo aver fatto all'inizio è un po' brutto ma proprio brutto però secondo me dopo quando hai sopportato tutto il dolore perdita di peso tutte le altre cose che ovviamente dipende perché il dolore puoi averlo diciamo tu puoi averlo dopo ancora un mese c'è gente che può averlo due giorni e poi passa tutto cioè dipende appunto dal vostro corpo nell'altro video che avevo fatto molte persone mi hanno scritto io dopo l'intervento non ho più avuto dolori beata te io invece diciamo un annetto poi un qualche dolorino ce l'avevo ancora però poi dopo è passato cioè dopo dopo giugno sì dopo giugno che ho cambiato lavoro eccetera che ero più rilassata da adesso diciamo non sto avendo più problemi non mi fa mai più niente per cui dipende appunto da voi e io direi che dovete stare tranquille ok non è facile perché diciamo che anch'io i primi giorni quando devo farlo era stata un'agitazione a mille il cuore che scoppiava cioè proprio però voi state tranquille rilassatevi cercate di non pensarci e di fare quello che vi dicono specialmente il medico così stare tranquille perché vedete che poi dopo dopo l'operazione l'intervento lisce come 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 se voli come una farfalla per cui state tranquille fate questo intervento perché c'è veramente bisogno quando succede questa cosa mi raccomando non tornate subito a mangiare schifezze o tantomeno cose che non fanno bene quando avete finito di fare l'intervento o è passato un mesetto io ho lasciato un mese a mangiare cose giuste cose che non potevo mangiare meno un mesetto l'ho lasciato poi dopo un mese ho iniziato a mangiare cose che volevo mangiare tipo il prosciutto il sushi quelle cose lì io vi consiglio di aspettare dopo un mesetto potete farlo però per adesso dovete anche vedere il vostro corpo come reagisce eccetera quello che appunto dico che poi si risolverà tutto si andrà avanti e secondo me poi restate cioè vedete wow sì ci sono i punti li vedi ma chi se ne frega chi se ne frega l'importante è che state bene che avete tolto queste sabbiette allora c'è gente che aveva ce l'aveva più grosso ad esempio il mio era piccolino dentro la pancia cioè chi l'aveva più grosso e faceva fatica con l'operazione l'intervento che ha subito diciamo complicazioni invece io avendolo ancora piccolino sono riuscita a tirarlo via se iniziava a diventare più grosso era peggio per quello che se sentite qualche dolore andate subito a farvi vedere non aspettate perché sennò dopo inizia esserci un po' di complicanze tante cose un po' gravi per cui se appunto sentite qualche dolore andate subito non pensateci due volte la prima cosa è la salute poi vedete che dopo l'intervento belli tranquilli via e non pensateci più per cui mi raccomando per chi lo deve fare non agitatevi state tranquilli serene se avete problemi che avete qualcosa da dire o qualche sfogo oppure qualche problema scrivetemelo su instagram in privato che lì rispondo sempre a tutte come una ragazza che mi ha scritto in privato che il video che ho fatto il primo video che ho fatto dell'esperienza mi ha scritto che è stata felice di avere visto il mio video e ha aiutato molto questa ragazza per cui se volete sfogare volete parlare di questo intervento di questa cosa io sono sempre disponibile per cui vi aspetto sul mio instagram in privato sul mio profilo se mi seguite è meglio perché di solito non rispondo cioè rispondo ma preferisco che la gente mi segue sul mio profilo instagram così posso poi rispondere direttamente tranquilla senza stare lì a vedere però quella non è scritta non mi segue e mi cerca solo tanto per cercarmi capito queste cose non mi piacciono per cui io sono sempre presente se avete qualche problema qualcosa oppure qualche consiglio che volete sapere non lo so voi scrivetemi su instagram in privato che io rispondo sempre se avete domande potete scrivermi qua sotto sotto questo video non c'è niente da dire perché appunto è stata un'esperienza un po' bruttina ma poi all'inizio è stata un sollievo perché poi ho detto ah che bello che bello però l'unica cosa è che guardo i punti nella pancia nell'ombelico e dico quello è stato un incubo quando vedi i punti ogni tanto lo specchio anche quando faccio la doccia ripenso alla difficoltà della doccia che non riuscivo a fare i primi giorni quando mi hanno operato è stata una cosa assurda però poi dopo piano piano è andata tranquilla sono diciamo felice di aver fatto questa operazione ovviamente anche di star bene adesso l'unica cosa che non posso fare è toccarmi l'ombelico dentro prima riuscivo a toccare l'ombelico dentro non avevo i punti riuscivo a toccare l'ombelico adesso che l'ombelico sia un po' ristretto e non è più grosso e quando metto l'odito che non so per pulirlo eccetera io ci giocavo facevo così anche per divertimento questa cosa qua non la posso più fare mi dà fastidio uno perché ci sono i punti e due perché è troppo stretto e allora mi dà mi dà quella sensazione di cioè non so come farvelo spiegare ma non riesco più a fare quella cosa di prima che facevo l'unica cosa è quando devo pulire l'ombelico dentro devo usare tipo un cotone qualcosa che entra dentro però anche lì è difficile per cui io uso l'acqua della doccia che così riesco a pulirlo ma quando devo pulirlo oppure giocarci con l'ombelico che io ci giocavo prima di essere appunto operata era bello e invece così adesso non posso più giocarci sono lì a dire che palle però vabbè chi se ne frega l'importante è di non avere più dolore è di essere felice e che l'intervento è andato tutto bene perché la cosa migliore è questa che è andato tutto bene tutto qui per cui spero che questo video sia stato utile anche per scherzare per ridere un po' insieme se volete appunto dirmi qualcosa così che avete qualche dubbio scrivetemi perché tanto rispondo sempre per cui mi raccomando state tranquille serene non vi agitate all'inizio sembra un po' così così ma poi vedete che è come se non sentite niente perché quando poi vi mettono vi fanno la puntura per farmi addormentare lì poi tranquille non sentirete niente l'unica cosa che sentirete è il dolore i primi giorni e basta tutto qua per cui state tranquille non dovete pensarci è normale è così però se l'ho fatto io che sono riuscita a sopportarlo a fare questi interventi se l'ho riuscita a farlo io potete farlo anche voi per cui mi raccomando mi raccomando quando uscite dall'intervento che state meglio fatemelo sapere e mandatemi un cuorecino bello grosso grosso rosso rosso così almeno so che siamo unite insieme e che abbiamo fatto questo sforzo questo intervento e che il dolore non c'è più e che non lo sopportiamo più per cui belle grandi belle tutte con la forte di andare avanti di non fermarci mai questo serve comunque niente spero che questo video vi sia stato utile spero che le persone che appunto devono farlo siano belle cariche dire ok ce la posso fare vado avanti non mi fermo vado avanti sopporto queste settimane questi dolori ma poi via via passa tutto via e e non devo fare più niente per cui dai che ce la fate e e poi vedete che la vita piano piano migliora io vi saluto e vi vi no niente vi do un bocca al lupo e mi raccomando un bel portafortuna incrociamo le dita e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao